Ciao ragazzi e bentornati di nuovo nel canale e abbiamo di nuovo oggi una bella grattotina mista abbiamo simboli del miliardario, super sette e mezzo, un puzzle e una battaglia navale beh ragazzi tutto ok? sta andando bene sta quarantena tra virgolette? speriamo di sì perché purtroppo dobbiamo ancora rimanere a casa e dobbiamo sopportare dai ragazzi adesso grattiamo questi simboli del miliardario e il numero 64 allora vediamo qui cosa abbiamo, qui c'è un lingotto, qui abbiamo un altro lingotto poi sotto qua una moneta qui abbiamo una stella vediamo qui un'altra stella vediamo qua e c'è il ferro di cavallo qui un altro ferro di cavallo quindi le possibilità sarebbero due allora ho il lingotto in orizzontale o il ferro di cavallo in orizzontale con il bonus per due vediamo qui cosa troviamo? la stella e l'unico che ci rimane è questa possibilità ah no anche questa in realtà la stella vediamo vediamo e niente ragazzi è uscita la moneta e niente questo biglietto è perdente vediamo con il super 7 e mezzo numero 21 ecco qua banco allora mezzo 4 e mezzo e l'altro mezzo quindi dobbiamo superare il 5 allora prima giocata mezzo 1 qui ci vorrebbe un 4 sì perché 5 e mezzo è un 4 anche e invece esce un 2 3 e mezzo poi asso seconda giocata 4 e mezzo e quindi anche qui niente vediamo con le super carte allora se qui riusciamo a fare sto 7 e mezzo qui abbiamo un 4 qui abbiamo un 2 e niente 6 e mezzo niente ragazzi anche questo biglietto è perdente puzzle numero 4 allora vediamo almeno questo puzzle e i numeri 46 allora il 46 non lo vedo c'è il 45 29 nemmeno andiamo avanti andiamo avanti con il 12 allora il 12 nemmeno il 12 53 c'è il 54 il 52 ma il 53 non c'è qui abbiamo il 34 34 niente qui non c'è proprio niente 11 eccolo qua qui si intravede il fiore poi scusate il quadrifoglio 24 e non c'è 50 eccolo qua sempre nel quadrifoglio poi 44 e c'è sempre il 43 45 43 ecco qua 45 eccolo qua poi 54 e ce l'abbiamo qui poi 31 e niente si è fermato già 27 eccolo qui e vediamo vediamo 69 eccolo qua ma qui adesso ci sono due possibilità o il 63 o il 70 ci sarà vediamo 22 e niente ragazzi anche questo biglietto è perdente speriamo che ci salvi la battaglia navale allora vediamo se ci salva questa battaglia numero 36 vediamo un po' allora ecco qui B6 B6 eccolo qua abbiamo un pezzetto vediamo poi ma mi pare di quella grossa sì poi H6 H6 e qui già esce l'acqua A7 altra acqua è vero che voglio vedere il mare però sulla battaglia navale ne potremmo fare a meno B1 un pezzetto ma è sempre quella grande quella sarebbe la sorella allora F5 F5 qui abbiamo un pezzetto poi H2 H2 almeno se uscisse una piccolina invece l'acqua E1 E1 eccolo qua ma questa grande poi E4 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 sta qui H1 tanto esce l'acqua infatti e infine H4 H4 esce il pezzetto di qua ma non ce l'ha fatta finire e niente ragazzi questo biglietto è perdente allora aspettate un attimo perché qui vabbè forse mi è uscito quando ho grattato allora F4 no non c'è no l'F4 c'è l'F5 ma l'F4 non c'è no c'è E4 vabbè si e H4 ma l'F4 non c'è no non c'è va bene ragazzi questo biglietto è perdente vediamo almeno se uscisse lo scrignetto vedete le barchette piccoline c'erano non mi piacciono tanto però purtroppo non escono mai o quasi mai allora vediamo e niente ragazzi niente niente non si vede lo scrignetto purtroppo non c'è e niente ragazzi anche questo biglietto è perdente allora abbiamo grazzato tutti questi grattini qui un attimo che ecco tutti questi grattini qui ma purtroppo il video è perdente e non ci possiamo fare niente comunque dai ragazzi se il video vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi al canale e commentate se volete io vi voglio bene a tutti un grosso bacio e un fortissimo abbraccio ciao ciao da maritena alla prossima mua ciao ciao